I servizi segreti ucraini hanno annunciato l'avvio di un'operazione antiterrorismo in tutto il paese, sullo sfondo degli scontri delle ultime ore fra manifestanti dell'opposizione antigovernativa e forze di polizia. Il premier pro tempore, Sergei Arbuzov. Non è accettabile parlare dei valori europei e di un livello di sviluppo più avanzato e allo stesso tempo sacrificare vite umane. Distruggere beni dello Stato e dei cittadini, bruciare auto e appartamenti è una vergogna per il paese agli occhi della comunità internazionale. I servizi segreti hanno aperto un'inchiesta contro quei politici dell'opposizione accusati di aver cercato di prendere illegalmente il potere dopo gli scontri di lunedì notte.